Una corsa contro il tempo. Sale la preoccupazione nel Vesuviano per l'impennata delle ultime ore di contagi da Covid-19. I sindaci dei rispettivi comuni si dicono preoccupati. Nel Comune di Tore del Greco ieri registrati 31 ulteriori casi di positività da Covid-19, di cui 2 ospedalizzati e 29 in isolamento domiciliare. Si contano però anche tre nuove guarigioni. In totale quindi sono 298 i casi positivi in città, di cui 291 in isolamento domiciliare e 7 ospedalizzati. Brutta notizia per la comunità di Ercolano. Nella giornata di ieri registrata una vittima da coronavirus. Come spiega il sindaco Bonaiuto, si tratterebbe di una donna di 57 anni con patologie e pregresse ricoverata presso il Covid hospital di Bosco Trecase. Sono affranto e vicino alla famiglia, esprimo il cordoglio mio personale e di tutta la città, ha affermato il sindaco. Dopo la guarigione dal virus, il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha diramato attraverso una diretta Facebook i dati dei contagi. Si registrano 351 persone positive, delle quali 19 non residenti a Portici, ha affermato il sindaco. Sono stati effettuati dal 16 agosto circa 7.300 tamponi, un numero enorme per una città di queste dimensioni, ha concluso. Cresce ancora il numero dei contagi a Castellammare, in linea con l'andamento in tutta la regione campania. Sono 78 i cittadini che nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al tampone, mentre 13 sono le persone ufficialmente guarite. Il sindaco Gaetano Cimmino spiega «L'incremento dei contagi è sempre più preoccupante. A tal proposito, ho richiesto al direttore generale dell'Ast Napoli 3 Sud di garantire esiti più rapidi perché il virus corre velocissimo». Altri 16 positivi al virus a Bosco Reale. Registrate sei guarigioni. Salgono quindi a 99 i casi di contagio nel comune vesuviano. Sono molto preoccupato da quest'ulteriore impennata di contagio, ha dichiarato il sindaco Antonio Diplomatico. Raccomando la massima attenzione e l'uso continuo della mascherina, che resta un presidio importante a difesa del virus. Grazie a tutti.